Prima di tutto ovviamente esprimo la vicinanza del gruppo parlamentare della Lega Nord alle famiglie delle vittime, in particolar modo a quelle italiane e specificatamente alle famiglie di Marco e Cristian, miei corregionali che hanno perso la vita durante l'attacco assassino dell'estremismo islamico a Dhaka. Però adesso non è il momento delle lacrime, ma serve reazioni, serve una reazione concreta da parte della comunità internazionale, da parte del governo italiano. È inaccettabile che per una bieca tolleranza a tutti i costi si sia nella sostanza permesso l'espandersi del fondamentalismo islamico sia in quei paesi sia in Europa. Servono controlli, serve una moratoria sulle moschee, serve il blocco dei confini rispetto all'ingresso di immigrati clandestini, serve un controllo a tappeto verso tutte le comunità islamiche. Solo in questo modo si potrà garantire sicurezza e futuro ai nostri cittadini.